ciao bella raga benvenuti in questo nuovo video da Ciro allora grazie a tutti quanti voi ragazzi che state iscrivendo al mio canale su youtube vi ringrazio che seguite i vostri beniamini oggi vi porto questa bellissima novità è venuta a trovare la mamma di rosalinda a milano e così rosalinda fa da da turista per far vedere la città a sua mamma a milano comunque questo video qua ragazzi è molto fondamentale kinu presto sarà un cane molto molto carino perché rosalinda lo scrive da una parte presto lo vedremo anche a fare un film no kinu ragazzi vediamo questo filmato qua e noi ci vediamo dopo ragazzi mi raccomando io ne indosso uno bellissimo però vi lascio il link qua giù dove trovate tanti outfit tanti prodotti di cosmetica oggi che ho passato tante ore in piedi utilizzerò cell fear sicuramente perché ho le gambe veramente super gonfie approfittate perché c'è uno sconto del 20 per cento extra vi lascio sempre il link qua giù e vi lascio anche un codice sconto rosi ok per un 10 per cento di sconto cumulabile con gli sconti che trovate sul sito c'è anche la promo 3 per 2 quindi approfittate per fare scorta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. La piccola peste intenta a distruggermi le ciabatte sarà presente sabato 6 maggio in una giornata insieme ad Andrea organizzata da Arcaplanet. Mi piace molto supportare Arcaplanet perché si spende molto nel sociale, infatti in questa giornata alla quale potete partecipare anche voi vi mostreranno come fanno ad addestrare i cani guida che sono fondamentali per i non vedenti. In uno dei centri più importanti per cani guida all'inviate, quindi se volete troverete la piccola peste che sta ancora distruggendo le mie ciabatte, insomma non sarò presente perché sarò fuori Italia però ci sarà sicuramente un'altra occasione. Io tra l'altro mi sono sempre chiesta come fanno ad addestrare questi cani che sono davvero davvero fantastici ed un supporto fondamentale. Allora, dobbiamo raccontarvi un fatto davvero davvero increscioso. Perché un tizio con una sorta di motorino elettrico con i pedali ci ha fatto un sorpasso a destra e ovviamente Andrea lo stava prendendo in curva a destra e lo stava prendendo e quindi gli ha suonato semplicemente. semplicemente. Ma ho fatto una sorta di cortesia, voleva fare pip, è leggera, cioè è anche fin troppo gentile, perché io istintiva già avrei iniziato a urlare, quindi lui è fin troppo gentile. Ma questo tizio non ci ha inseguito e non ci ha scudato nella portiera della macchina, cioè ma ragazzi ma la gente ma come cazzo sta? No, eravamo fermi, 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 eravamo fermi. No, eravamo fermi, eravamo fermi. No, eravamo fermi, eravamo fermi, eravamo fermi, eravamo fermi, eravamo fermi, che sì anton80, ma mee fermi, eravamo fermi, eravamo fermi, eravamo fermi, la p porqué è rosca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che carino Kino. Lo vedremo nel personaggio più famoso. No ragazzi seguiamo anche Kino. Dai ragazzi non ci dimentichiamo. Ragazzi se questo video vi piace mi raccomando. Lasciatemi un like. Iscrivetevi al canale. Da Ciro Mancini è tutto. Ciao bella raga. Ciao. 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 Ciao.